ciao a tutti sono franco cardaropoli percussionista classico isolamento forzato ha fatto venire fuori il bisogno della musica per noi artisti ecco perché ho scelto di suonare uno strumento come il triangolo oggi un strumento che fa parte dell'orchestra di sessane flussi di teatro mi manca molto l'approccio con il pubblico con la musica mi suonerò uno studio dal libro richard o kreiner studio numero 5 buon ascolto io resto a casa e poi mi ricordo di cuore Grazie a tutti.